Se siete degli appassionati di cinema, ma anche della letteratura, e se vi piacciono i libri belli esteticamente da mostrare e da sfogliare, allora il consiglio per voi è questo qui. 116 film da vedere prima dei 16 anni, e non solo, di Mario Castagna, edito da Libri Mondadori Ragazzi. Ciao Popoli Lega Nerd, io sono Gabriella e questo è Nerd Book Club, una rubrica dove vi consigliamo un po' di consigli di lettura, perdonate il gioco di parole. Oggi voglio unire insieme due delle mie più grandi passioni, appunto il cinema e la letteratura, e lo faccio con un libro perfetto per tutte le età, nonostante il titolo, anche se effettivamente, vista la scelta dei film che troveremo all'interno di questo libro, beh, sarebbe molto utile leggerlo e poi applicare i consigli di visione effettivamente prima dei 16 anni. Il libro in questione è 116 film da vedere prima dei 16 anni, scritto da Mario Castagna, che è stato diverse volte ospite qui da noi su Lega Nerd, e pubblicato da Libri Mondadori Ragazzi. Questo libro in particolar modo è un vero gioiellino, un manuale con appunto 116 film divisi per differenti aree tematiche, con film che riguardano tanto i ragazzi, i coming of age, ma anche film molto più duri, alcuni titoli non mi li sarei mai aspettata di trovarli in questa lista, ma che effettivamente affrontano tematiche che sarebbe utile conoscere già in un'età piuttosto giovane, una di quelle età di transizione appunto l'adolescenza, dove cominciamo a capire quali persone vorremmo effettivamente essere per il futuro. E visto che l'adolescenza è uno dei periodi più complessi della nostra esistenza, e più di una volta i film sono stati quelli che hanno saputo meglio consegnarci, proprio perché le storie, l'empatia con i personaggi, ritrovarci all'interno di alcune situazioni, è molto utile proprio per proiettarci in quel dato momento e capire, o almeno accettare un consiglio, su come sarebbe più opportuno muoversi, comportarsi, reagire. 116 film con le più differenti storie, tematiche e personaggi, più che inclusivi, all'interno dei quali possiamo veramente ritrovarci. E che ripeto, ci sono alcune piccole perle veramente molto molto nascoste, oltre ovviamente ai film più mainstream, che fanno parte poi degli anni 80 e degli anni 90, che sono tipici film dell'adolescenza, come per esempio un Goonies, un Breakfast Club, un Ritorno al Futuro, insomma. Film che sono alla base della nostra vita, e che pertanto sono tanto belli da vedere effettivamente, quando si è a 16 anni, e altrettanto belli da rivedere quando si è più grandi, anche per capire come siamo cresciuti, quanto siamo cambiati rispetto alla prima volta che abbiamo visto questo film. Oppure, se effettivamente state per fare un regalo ad una persona molto giovane, beh, è il regalo perfetto, proprio perché si potrà ritrovare in differenti tematiche. Il libro è meravigliosamente illustrato con questa super grafica, e con dei disegni realizzati da Alessandro Ventrella. Mentre, come vi dicevo prima, le storie e i film scovati e analizzati sono ad opera di Mario Castagna, che opera da anni, tanto in ambito cinematografico quanto in quello letterario. Il libro si divide per aree tematiche, ognuna delle quali ha circa una dozzina di film consigliati. Amore, famiglia, mondi fantastici, diventare grandi, guerra, maestri di vita, malattie e morte, scuola, sogni e passioni, e alla fine, lotta per la sopravvivenza. Come vi stavo dicendo, la maggior parte dei titoli che sono stati, insomma, segnalati, non sono solo i classici titoli canonici, ma anche qualche film molto più corposo, che magari uno potrebbe dire, beh, un film adatto più per un pubblico adulto che per un pubblico adolescenziale, ma che invece riesce ovviamente a toccare anche delle corde un po' meno mature, un pochino più mature, e che forse appunto può aiutare proprio in quello che è un percorso di crescita. Per esempio, in amore, mi viene da consigliarvi, chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino, oppure Moonrise Kingdom, una fuga d'amore di Wes Anderson, o ancora, noi siamo infinito di Stephen Chomsky, o ancora, orgoglio e pregiudizio, Scott Pilgrim vs The World. In famiglia ci sono anche film della grande tradizione cinematografica, come per esempio I 400 Colpi, Manifesto della Nouvelle Vague di François Truffaut. E poi, sempre in famiglia, abbiamo per esempio Mommy di Xavier Dolan, oppure Mustang, Piccole Donne di Greta Gerwig. E poi nei mondi fantastici, ovviamente, ritroviamo alcuni dei grandi cult, come Gremlins, Harry Potter, Attile Extraterrestre, Edward Mani di Forbice, quindi una serie di film che magari potrebbero essere effettivamente un pochino più scontati, ma non così banali, per come sono stati realizzati, per le tematiche che ovviamente rappresentano. E ancora abbiamo film in diventare grandi come Tomboy, che parla appunto di rappresentazione di identità di genere, quando si è molto piccoli, quando si sente di non essere nati nel corpo che ci appartiene veramente. film stupendo di Céline Sciamma, oppure ancora la guerra con il bambino con il pigiama a righe, Jojo Rabbit, un sacchetto di biglie, e Maestri di Vita, dove veramente ci sono alcuni consigli molto inaspettati, come per esempio American History X. Insomma, parliamo di una carrellata di pellicole mai banali, con tantissimi consigli diversi, che aiutano non solo l'approccio alla visione, a riflettere su determinate tematiche, ma anche a scoprire nuovi autori, nuovi interpreti e nuovi film, con tanti generi differenti. La struttura del libro è molto interessante, perché infatti si divide in tre aree. La prima, dove ovviamente ci sono la trama, i consigli dello stesso autore, poi nella seconda colonna troviamo i tre motivi per guardare il film, e nella colonina più bassa, invece, possiamo trovare o i trivia tech, quindi con tutta una serie di curiosità, oppure delle mini interviste con chi effettivamente ha lavorato la realizzazione del film. Quindi veramente completa al 100% per farci fare un viaggio, mano nella mano, nel mondo del cinema, e anche della letteratura, anche perché ci sono diversi film, tratti ovviamente da libri, come all'inizio vi dicevo, per esempio, Chiamami col tuo nome, film di guadagnino, però tratto dal romanzo stupendo di Andrea Siman. La scrittura di Maglio, come sempre, è veramente incalzante, interessante e molto carismatica. Lui ci prende per mano in questo viaggio, attraverso quelli che sono film imprescindibili, che sì, sono sicuramente consigliabili per un'età più giovane, perché probabilmente molto più impattanti, ma che al tempo stesso vanno bene per qualsiasi età. E vi posso assicurare che tanti di questi film non li avrete effettivamente visti. Quindi, 116 film da vedere prima dei 16 anni, è un libro che vi consiglio caldamente, un libro stupendo, tanto da regalare quanto da auto-regalarsi. Farete un figurone, e io vi consiglio comunque, se lo state regalando, di prendere una copia anche per voi. Meraviglioso. Conoscevate un po' il libro oppure l'autore? Vi ho un pochino incuriosito? Beh, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. E se il video vi è piaciuto, mi raccomando, pollicioni in su, e ricordatevi di attivare la campanella, iscrivervi al canale di Lega Nerd, per restare costantemente aggiornati con i nostri video. Io sono Gabriella, grazie per essere stati con me, e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!